Il tempo è una delle poche cose che possono in qualche modo qualificare la qualità di un oggetto. Il design si può fare benissimo senza sapere niente di come è fatto il corpo dell'uomo. Tutto quello che io faccio e qui si fa succede in tre dimensioni. Io sono un completo nemico della forma per la forma. Per me la forma è una conseguenza di una vita interiore che deve avere un oggetto. Procettare un oggetto così è sempre come fare una passeggiata in un bosco. E delle volte ci si perde nel bosco e allora è meglio tornare indietro e riconosciare tutto da capo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.